L'Unione Europea ha inserito altri 160 nomi nella blacklist che prevede sanzioni contro chi si è reso responsabile o ha contribuito all'attacco contro l'Ucraina. Si tratta di 14 oligarchi e imprenditori di spicco e di 146 membri del Consiglio della Federazione Russa che hanno ratificato le decisioni governative sui trattati con le repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. Le misure restrittive dell'Unione Europea si applicano attualmente ad un totale di 862 persone e 53 entità. Grazie.